dai però guarda non me lo fa prende non me lo fa prende guarda guarda no vabbè i giocatori usano gli emoti ma bello a tutti ragazzi e bentornati nel canale oggi siamo in un nuovo video che non l'ho mai portato siamo su minecraft e oggi andremo a fare delle skyworks e iniziamo subito le skyworks per chi non lo sa è una specie di partita cioè una mappa con tante isole ognuno cade su una isola chi sopravvive per ultimo vince cioè in queste isole ci sono delle cests in cui contengono cose buone di solito oppure anche cose brutte ok abbiamo iniziato prendiamo tutto nelle cests ma come avete visto adesso non c'era quasi niente vai andiamo al centro andiamo 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 a ucciderlo andiamo a ucciderlo dai no vabbè c'è la spada in diamante me sa dai non è possibile dai però che schifo ok ragazzi secondo la partita prendiamo tutto dentro le cests è tutto utile va andiamo ma si subito no regà no dai oh ma che personaggio c'ho che schifo però io odio le skyworks io odio le skyworks ok terza partita subito cests buona la spada in ferro prendiamo vai così buono buono c'è un'altra cesta attenzione c'è tre cests molto buone vai vai già al centro quello è andato che dite uccidiamo lui proviamo è distratto merda non è distratto seee andiamo mamma mia e uno abbiamo ucciso proviamo ad andare verso il centro eh no 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 dai che schifo però non è possibile o saggio è bene dai prendiamo dentro le cests andiamo giù prendiamo buono dai ci sta ci sta a me subito verso il centro subito verso il centro là c'è uno scheletro per quale motivo c'è uno scheletro dai lo scheletro che non gioca mi ha buttato giù ma com'è possibile ma che schifo è oh non è possibile vai prendiamo subito dentro le cests andiamo giù tutte armature va bene va bene ah eccola un'altra cesta vai una mela d'oro buona 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 io direi di provare a salire eh lì c'è qualcuno no 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 ti prego non mi uccide comunque siamo al centro ho vinto no no si è arrivato primo cioè non primo per le uccisioni però sono sopravvistuto per ultimo dico e andiamo non ho fatto nemmeno un'uccisione e sono sopravvistuto fino alla fine cioè in teoria non ho vinto perchè loro contano chi fa più uccisioni eh però sono sopravvistuto per ultimo e quindi prendo la vittoria sembra più che giusto siamo alla ultima Skywars di oggi e solo una l'abbiamo vinta e per me va più che bene perchè non mi aspettavo manco di vincere la una quindi va bene voglio una spada eh voglio una spada nooo vabbè non la prendo quella e con il piccone prendiamo il ferro e facciamo una spada ok abbiamo la spada in ferro signori mamma mia regà quelli già al centro quasi tutti sono andati e abbiamo i blocchi si andiamo verso il centro vai 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 mori 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 dai però perchè lag dai guarda questo lag dai però non guarda non lo non me lo fa prende non me lo fa prende guarda guarda no vabbè i giocatori usano i remodi cioè non è possibile avete visto ha usato i trucchi vabbè regà questo qua era il video delle Skywars io spero che vi sia piaciuto ovviamente porterò anche i video di minecraft e porterò credo una serie hardcore oppure altre Skywars dei minigames e poi io spero che il video vi sia piaciuto lasciate like scrivetemi un commento e noi ci vediamo al prossimo video bella ciao 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 ciao